Ciao, io sono Stefano e oggi vi presento la maglia da trasferta, o la seconda maglia, della Lazio per la stagione 21 e 22, nella versione FAN. Nuovo look per la maglia Awei della società sportiva Lazio 2021-22, ma stessa voglia di vivere forti emozioni sul campo da gioco. Il fronte bianco si alterna nella parte alta a una striscia celeste e a un blocco color navi sulle spalle. Il retrocollo è personalizzato con la stampa a caldo SS Lazio. Gli spacchetti sul fondo maglia sono arricchiti da pim pim celeste. Realizzato in tessuto Eco Soft Lock, tessuto tecnico appositamente progettato per il set di gioco, con filato di poliestere riciclato al 100%. È leggero, morbido e molto resistente allo strappo, con un'asciugatura rapida assicurata. Questa maglia è veramente bella. Nella mia classifica prende 4 stelle, tra l'altro di uno dei miei gettatori preferiti, Melinkovic Savic. Devo dire, peraltro, che è fatta veramente molto bene, molto bene. Era la prima volta che prendevo questa marca, diciamo così, la Macron, ma devo dire che è veramente di ottima qualità. Vi ricordo che sul sito, sul sito in descrizione, trovate le informazioni per poterla acquistare. Ora, se il video vi è piaciuto, se la maglia vi è piaciuta, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Tra oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quello che vedete è una taglia media della versione fan, quella un po' più confortevole, dedicata ai tifosi.